A Settimo Torinese sta sorgendo una delle opere pubbliche più importanti degli ultimi decenni perché contribuirà a rigenerare un'intera zona, il Borgo Nuovo. Si tratta del polo didattico Martiri della Libertà, la cui prima pietra è stata posata lunedì 8 aprile, alla presenza della sindaca di Settimo Elena Piastra e della consigliera delegata della città metropolitana Caterina Greco, ma soprattutto con una folta rappresentanza di bambini e bambine che a fine 2025 entreranno nella loro nuova scuola. L'edificio che ospiterà la primaria sarà costruito infatti grazie a un finanziamento PNRR, nella fattispecie un piano urbano integrato dedicato ad abitare il territorio, che la città metropolitana di Torino ha individuato con un intenso processo di concertazione e di cui svolge il ruolo di coordinatore. Quasi 9 milioni assegnati dal PNRR per un progetto che ne impiegherà circa 11, non una semplice nuova scuola elementare in sostituzione di quella vecchia, ma per l'appunto un civic center, ovvero uno spazio utilizzabile da tutti i cittadini, grazie a locali polivalenti capaci di ospitare eventi e laboratori, una palestra auditorium da 300 posti, aule con pareti mobili che potranno ampliarsi sulla base delle esigenze, realizzato con un processo partecipativo che ha coinvolto anche gli insegnanti del plesso scolastico e attraverso di loro i giovanissimi allievi. Tanto ringrazio ancora l'amministrazione comunale per aver permesso che si iniziasse un percorso di coprogettazione che non è scontato in progetti di questo tipo. La cosa fondamentale è che le maestre, perché sono venute le maestre in rappresentanza proprio del plesso martiri, innanzitutto si sono sentite ascoltate e questo è già una parte grandissima dell'attività che si è fatta. Le richieste specifiche sono andate proprio a puntualizzare quello che si diceva prima, i desideri delle maestre, che poi sono i desideri degli allievi, quindi l'idea di avere degli spazi componibili, non l'aula completamente isolata dal resto dell'edificio e soprattutto delle aule dedicate ai laboratori tematici, cose che già vengono fatte all'interno della scuola, sicuramente questi spazi innovativi renderanno possibile una didattica di tipo diverso, legata molto alla laboratorialità. Siamo molto contenti e onorati di far parte di questo bellissimo progetto, progetto che ci ha visti coinvolti sia nella parte di progettazione esecutiva che nella parte di costruzione. Vedere tutti questi bambini entusiasti, contenti, ci carica ulteriormente anche di responsabilità che però prendiamo assolutamente ben volentieri come ulteriore stimolo. Non ci sono cantieri di serie A e di serie B, Mattiola cerca sempre di affrontare i cantieri con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia mettendoci la faccia in prima persona. Non nascondo il fatto di poter però costruire una scuola, quindi dedicata ai bambini, con quindi anche uno sguardo verso il futuro sicuramente ci rende riorgoglio e ci fa sentire ancora più carichi per questa bellissima iniziativa. La struttura è in parte prefabbricata e in parte già gettata in opera, quindi noi siamo già mossi in anticipo, noi addirittura abbiamo già chiuso tutti i contratti con i nostri soliti partner, quindi abbiamo attivato sia la parte di contratti che la parte addirittura di produzione, in modo tale da trovarsi assolutamente pronti già da subito, quindi col getto delle fondazioni che è veramente imminente, per riuscire anche a dare proprio anche il volume, quindi l'involucro già veramente con fine estate, inizio settembre, in modo tale che i propri bambini percepiscono anche proprio il cantiere che va avanti assolutamente in maniera molto rapida e spedita.